Finalmente, siamo riusciti a controllare i guardiani. Di questo passo, continuando a studiare guardiani e colossi sacri, se la calamità Ganon dovesse fare ritorno, avremo la forza per contrastarla. Voi due che cosa ci fate qui? Stavamo ammirando le esercitazioni con i guardiani. Capendone il funzionamento, queste reliquie ci saranno d'aiuto contro la calamità. Sì, è vero. Studiare le antiche reliquie è estremamente importante per Irule. Tuttavia, tu sei la principessa di questo regno e hai ben altre cose a cui pensare. Quando la smetterai di continuare a scappare dalle tue responsabilità? Non sto scappando. Proprio ieri sono andata a fare abluzioni come sempre e a pregare alla fonte del coraggio. Smettila con queste reliquie. Devi dedicare tutto il tuo tempo alla disciplina religiosa. Altrimenti come puoi pensare di acquisire il potere per sigillare la calamità? Non lo so. Io cerco di fare del mio meglio. Però non ci riesco. Quindi, se intanto posso aiutare in un altro modo... Non voglio sentire scuse. Te lo ordino come sovrano. D'ora in poi... Non tollererò altre distrazioni. Concentrati sulla meditazione alle fonti. Sai cosa dice di te la gente al castello? Vuoi sapere come ti chiamano alle tue spalle? La principessina incapace. La ragazzina senza meriti. Tocca a te dimostrare che si sbagliano. Lo sai, vero? Sì. Padre.